Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Leone, come potete vedere dalla faccia e tutto, e niente, si notava abbastanza che ero Leone, non so, scusatemi. Sono tornato, per poco, in realtà noi parleremo fra poco. Questo è un annuncio perché vado in live alle due e mezza su Darkest Dungeon. E niente, vi aspetto là in live, fatevi vedere, fatevi sentire un pochettino, così parlo anche del motivo per cui non sono stato per nulla presente nell'arco dell'ultimo periodo del canale. E niente, semplicemente giochiamo, cazzeggiamoci, vediamo un pochettino, vedo un pochettino anche come va la connessione, il programma di registrazione e tutto. Quindi direi a fra poco, ciao a tutti ragazzi.